Le pari opportunità diciamo che è un argomento trasversale che riguarda tutti, dare pari opportunità alle donne ma a tutte quelle categorie più fragili che non hanno voce in capitolo e molto spesso non vengono ascoltate. Questo sarà il nostro obiettivo. Istituita lo scorso 29 ottobre dal Consiglio Comunale di Arezzo su proposta dell'assessore Tiziana Nisini adesso sta prendendo forma la consulta comunale per la promozione delle pari opportunità. Abbiamo chiesto di diritto che partecipasse la Presidente della Commissione pari opportunità della provincia, Rossella Angiolini, proprio per creare una sinergia sul territorio. Aderiranno tutte le associazioni femminili del territorio che apporteranno il loro operato già fatto negli anni, il loro valore aggiunto, la loro esperienza. Abbiamo chiesto la partecipazione anche delle consigliere comunali e un rappresentante del gruppo consigliare e in ultimo la dirigente competente. Abbiamo deciso come amministrazione, dietro anche richiesta delle associazioni del territorio, di creare questa consulta che avrà il compito di proporre all'amministrazione comunale delle attività proprio improntate alle pari opportunità che cerchino di sviluppare le attività sul territorio. Potranno così prendere parte anche movimenti o associazioni locali con specifiche conoscenze e esperienze sul tema. Il prossimo 23 gennaio sarà pubblicato l'avviso, la domanda di partecipazione dovrà pervenire all'assessore per le pari opportunità entro giovedì 20 febbraio. Ovviamente le commissioni hanno una funzione propositiva, non è che abbiamo né soldi né niente per poter fare nuove cose, però è importante questo perché vengono fatti dei convegni. Questi convegni toccano tutti i vari problemi delle donne, che non è solo la violenza di genere. Ad esempio pensiamo nell'ambito del lavoro a tutte le persone disabili, quindi la pari opportunità anche per quanto riguarda la disabilità e poi ovviamente anche per quanto riguarda altri argomenti, come ho detto prima, il lavoro perché è molto importante, la società perché oggi la famiglia ancora è tutta sulle spalle della donna e anche il mondo politico.